E' perché a noi di Cosmos TV con pillole di Natale ci piace soprattutto immortalare i momenti di questo Natale e l'atmosfera giusta è quella notturna e insieme a queste stelle di Natale perché qui non solo parliamo di l'abbellimento all'interno di un negozio ma anche la cura per la parte esterna. Vado di freddo e entriamo per conoscere le novità per quest'anno. Il nostro appuntamento è con Mario. Ciao Mario come stai? Ciao tutto bene. Ti vedo sempre in splendida forma. Sempre la grande. Benissimo, questo mi fa piacere perché io vengo qui sempre per i consigli e tu l'anno scorso sei stato preziosissimo soprattutto per la mia tavola ma anche la tavola di tutti coloro che sono venuti qui. Allora, i prodotti ci sono? Qualche chicca di quest'anno e qualche consiglio. Quest'anno praticamente innanzitutto siamo a Prato Perillo di Teggiano con una nuova sede per essere presenti anche lì e dare i nostri prodotti a tutta la zona del Vallo di Tiano. Oltre polla e oliveto citra, mi permesso. Polla e oliveto citra. Quest'anno quello che consigliamo per un bel menù di Natale è un bel sudè, un linguino, scambi e gamberi e in più abbiamo come novità dei ravioli ripieni di baccalà per continuare la tradizione natalizia col baccalà. A parte tutto il baccalà già in ammollo e tutto il resto. L'ultima novità che abbiamo per i nostri clienti è che chi viene da noi ad acquistare e spende 15 euro partecipa all'estrazione di un televisore 40 pollici. Benissimo, quindi non solo la spesa che può partire con un primo, un secondo ma anche tanti dolci se non sbaglio. Sì, partiamo con le classiche cassate siciliane, i cannoli siciliani e poi tutta la linea Torten. Bene, quindi oltre che la buona cucina vi potete fare veramente un gran regalo. A partire da 15 euro, quindi si partecipa all'estrazione di questo LCD, un televisore 40 pollici addirittura. Certo. Allora Mario, insieme ad Alessandra che ci sta aspettando e si avvicina a noi perché adesso è il momento degli auguri a tutti coloro che ci stanno seguendo, e quindi vi aspettano qui da Vado di Freddo Mario ed Alessandra. Buon Natale e buon anno nuovo.